Ciao a tutti, oggi è il 23 settembre, sono qui con Vale, che è una nuova del canale, ragazzi, c'ha delle novità che ci porterà lei, una cosa bellissima, anzi, tante idee nuove, vi divertirete tantissimo. Ne parleremo più avanti, adesso andiamo a vedere lo shop, vediamo un po' cosa c'è, sono tornati i personaggi di Street Fighter, cioè Guile e Cammy, vediamoli un po', li guardiamo da qua, 1, 2, 3, i pagoni e il deltaplano, Cammy la skin che sicuramente la vuole Doggo Liu, un mio amico che guarda sempre i video, quindi, ah, il balletto, con le varie mosse del gioco, Guile e come balletto, poi si pettino, che loro fanno i fighi, che conoscono le cose di Street Fighter, ma non lo sanno che io l'ho visto uscire nei bar di Street Fighter, sì, con le macchinette, eh sì, quindi, alcuni lo sanno a dire il vero, poi abbiamo Heidi, è la prima volta che vedo Heidi, non ci ho mai fatto caso, e io non gioco da tantissimi forti, avete, eh, una schiena abbastanza vecchiotta, eh, Ludwig, dunque sta barba tutta ricciolosa, ma che zainetto l'orologio, l'orologio a cucù, quindi è il deltaplano Oktoberfest per tutti gli appassionati di birra, davanti dei picnic, eh, ho il rapace, vabbè, questo sì, questo l'ho già visto un po' di volte, anche a velocità, bombardiere d'assalto, piccone dello slurp, sempre centro che c'è spesso nello shop, l'ho visto già un po' di volte, anzi, una delle poche skin che ho, dan sogno, e vediamo i balletti, Giocoleria, Fischer, Smith, e questo che forse ce l'ho, no, non ce l'ho, poi, vabbè, poi il resto l'abbiamo già visto, è il Carlino, lì, i Doggo, in italiano si chiama Carlino VIP, insomma queste qua, della sponsorizzazione, della casa di moda, meno male, sono le cose che abbiamo già visto, e i vari pacchetti, ecco cosa dobbiamo vedere, il pacchetto, luce caduta, che c'è da pochi giorni nello shop, è una spade carino, e anche dei V-Buck, bene dai, abbiamo visto velocemente tutto lo shop, quindi un saluto da Diego e da Lavale, che presto conoscerete per le sue mappe spettacolari e tutte le idee che ha per voi. Ciao a tutti, esattamente, alla prossima ragazzi, ciao ciao!